Tadami 1, Forte Luca, Rossi Alberto Per il prossimo incontro si preparino Paganini, Vittoria, Tratti, Flavia A seguire si preparino Giorgini, Sicuro Vince, vinci Vince Martellone Tadami, Giovinazzo, Chiara, Sicuro, Martina Vince Maestrini e si classifica al terzo posto Tadami numero 5, incontro valido per terzo e quinto posto Dinsanto, Bondi Arbitri, Magri, Vitolo Si preparino Tomellini, Valentina, Fiorenza, Alessandra Si preparino per i conti successivi Valido primo e secondo posto De Marco Manzoni Tadami numero 5, categoria 63 kg Meglio attenzione tra qualche minuto